Un programma in collaborazione con 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 Pasqua insieme, hanno visto Palazzo Vecchio, hanno visto la nostra città e oggi per completare questo percorso si sfidano sul campo in una bella partita. E allora come si dice in questi casi per augurare una buona riuscita per il rugby, per i ragazzi? Basta in bocca al lupo. In bocca al lupo allora. Crepi il lupo. Grazie Claudio. Bene. Corri via perché ha da fare riscaldamento per i ragazzi. Forza Florenzia. Forza Florenzia. Salve dal Florenzia Rugby, siamo con Marco Pernacchioni. Buonasera. E con il coach del Sudafrica, Marco? De Villiers. De Villiers. Ti puoi chiedere appunto come mai questa cosa del Sudafrica, se non sbaglio, e poi dopo ci spieghi un attimino le sue risposte. Certamente. Loro erano già stati a Firenze, avevano già giocato con il nostro club qualche anno fa, avevano avuto una grandissima esperienza, sono stati molto felici. Ovviamente tornare a Firenze per loro era un piacere. Le persone che avevano incontrato e che hanno incontrato anche questa volta sono state splendide e per loro è stata una bellissima esperienza portare i loro ragazzi, che vengono da una scuola, non da un club, a giocare qui con i nostri. Club del Sudafrica, gli chiedi di preciso da dove vengono? O sei una rappresentativa? Vengono dalla zona ad ovest di Città del Capo e mettono insieme un certo numero di scuole, non sono esattamente un club, ma una rappresentativa scolastica. Del Sudafrica. La gruppa più scuole ed organizzano ogni due anni questo viaggio per portare il rugby e la loro filosofia in giro. Bellissima esperienza il Ferenza Rugby, è contento di accogliervi e come diciamo qui a Firenze Rugby is passion, è passione no? E good look, salutacelo a te! He's saying thank you for coming by us, we have a great passion, as you can see, and we are very happy that you visit us. Hopefully we will meet again in the next years for our younger boys meet with us. Thank you so much, we look forward to the game, grazie. Sono un vedo l'ora di giocare e grazie in italiano. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.